Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Marco Azzurro sul canale ragazzi. Anche oggi il Napoli ci ha illuminato, ci ha illustrato la via per la felicità, vincendo anche questa partita, cazzo! Vieni! Vincendo anche questa partita, vincendola, vincendola in Polonia contro tutta Varsavia che ci urlava contro quindici cani sono andati a vederci che ti favano Napoli e il Napoli ne fa tre. Ora non so se ne farà anche un altro, ma ne ha fatti tre. Sì, ok, due di questi sono rigori, ma i rigori c'erano. E i rigori li devi battere, i rigori li puoi sbagliare. E il Napoli non li ha sbagliati. E il Napoli ha vinto. Il Napoli ha portato a casa un'altra partita. E muti, e zitti, perché non c'era Zigne, non c'era Ozyman, non c'era Mario Rui, vabbè capirei che è perdita, non c'erano molti giocatori. E zitti, e muti! Il Napoli l'ha vinta questa partita, il Napoli l'ha vinta. Tu riuscivi a vincerla? Tu, persona che stai guardando il video e stai dicendo che mi avevano regalato i rigori, riuscivi a vincerla questa partita? No, perché sei incompetente. Il Napoli l'ha vinta. Il Napoli l'ha portata a casa. Il Napoli ha dominato nella fase finale, quando stava perdendo fuori casa, contro il Varsavia, che ok, non è sto squadrone, ma con tutte le difficoltà del caso. E fino al sessantesimo non c'era quasi nulla che facesse pensare che questo Napoli ne avrebbe fatti tre da un momento all'altro. Invece il Napoli, boom, ne ha fatti tre da un momento all'altro. Ok, due rigori. E ne abbiamo già discusso, i rigori c'erano. Il primo c'era, ragazzi. C'era, per favore, non rompetemi il cavolo. Gli entrano da dietro a Zielischi e non capite male, c'era il rigore. Il secondo è un gioco pericoloso in area di rigore in cui mi vai a dare un calcio volante sul braccio del gioco dell'avversario. Ed è il rigore. Quindi non stiamo a discutere. Il terzo gol è regolare di Lozano perché non c'era il fuorigioco, lui era dietro la linea del pallone. Il Napoli ne fa tre. Il Napoli ne fa tre. Il Napoli ne fa tre. Soffre. Soffre. Soffriamo. Abbiamo sofferto tanto, abbiamo sofferto tantissimo. Ma a me va bene. A me va bene una squadra che soffre e finisce la partita con una vittoria per 3-1. C'è stato un paratone di Meret. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Ma sono tutte cose, tutte eccezioni che confermano la regola che questa squadra è forte anche senza i suoi uomini più forti contro una squadra tosta perché ha un pubblico molto forte, uno stadio che ti urla contro. E oggi hanno giocato anche giocatori che non erano proprio il massimo della Madonna. Di Lorenzo ha sbagliato tanto, Lozano ha sbagliato tanto. Però ragazzi il buon Piotre non ha sbagliato quasi un cazzo. Oggi il buon Piotre non ha sbagliato quasi un cazzo. Il buon Mertez è entrato e ha fatto lo scavetto. E zitti. E zitti. Ciao. Ciao.